Destra, sinistra, avanti, indietro, colpisci, se hai colpisci, fammi vedere colpisci, bravo, no ma più convinto, non se lo toccare, lascialo fare come lei, se lo deve toccare qualcuno deve essere la sposa, va bene? Allora, microfono alla sposa. Avanti, avanti, avanti. Destra, le mani, le mani, le mani dietro, le mani dietro si legano. Colpisci, ma che colpisci dopo averli? No, no, siete di maniera ferma. Colpisci, le mani dietro la schierla, eh? Finista, tu hai finito, eh? Colpisci, la sposa può stossare il cipriolo, eh? Lo può tenere più su, mettitelo a posto. Brava sposa. No, rimettiti il cipriolo a posto. La sposa, per favore. Allora, perché vuoi tenere il cipriolo in vista? Sto sentando una balletta, una balletta, per favore. Santella, Santella, bravo. Santella. Ora di giù. Via, lo sposo se lo vuoi sistemare. Siposo, rincartatelo, rincartatelo. Grazie per la visione!